Buon pomeriggio. Sono Piero Antonio Toma e come ogni martedì ormai siamo oltre un anno perché abbiamo cominciato a fare questi martedì web radio dell'associazione Vita Nova già dal marzo dell'anno scorso per cui abbiamo superato abbondantemente l'anno e anche perché poi da allora la nostra libreria in Viale Gramsci 19 appunto la libreria Vita Nova è chiusa a causa del Covid. Speriamo di poterla riaprire in autunno. Oggi vorrei parlarvi non di un libro ma di una rivista che si chiama Acrab, una rivista letteraria, una delle pochissime superstiti ancora nel nostro panorama. Ed è fondata e diretta da un ottimo scrittore, Nando Vitali, uno scrittore bagnolese di Bagnoli. Ed è uno scrittore a cui sono legato da profonda amicizia. Insieme con lui e con Vittorio Buongiorno abbiamo fondato una casa editrice, la Compagnia dei Trovatori. Insieme abbiamo proseguito in questo nostro itinerario che poi non è quello degli editori. Ma comunque abbiamo cercato di fare un po' comunella intorno ai libri da fare, da proporre, da stampare, da editare, da commentare. Bene, Nando poi è un ottimo scrittore, dicevo, ha scritto Quei Distorti che poi è anche un romanzo, il primo romanzo che abbiamo stato anche stampato recentemente. Poi ancora I morti non servono rancore. Poi Bosseide, poi Ferropoli, fino agli ultimi ventici racconti sotto il titolo di Polvere di Scarafaggi. Ecco, in questi ventici racconti dove c'è tutto Dando Vitali, il suo peregrinare di sempre e un più di, come dire, di visionarietà dolorosamente post-industriale e di magia della parola. E anche la miseria, la crudeltà e soprattutto il rincorrersi della vendetta che dapprima, per dirla con Kundera o con Dera, allargano le ferite. E poi si vedono sublimate da una trasfigurazione surreale, stregata e talvolta grottesca. Potremmo anche precisare che l'autore riesce a convertire in questo libro, in questo polvere di scarafaggi, la condizione degli ultimi in una favola narrativa. Se fosse musicista, ma in giù di Toro è stato per davvero, potremmo evocare le note dolenti di Chet Baker. Ma Nando Vitali è anche, appunto, un fondatore e un curatore di una rivista che si chiama Acaba, che proprio oggi, 15 giugno alle ore 18, verrà presentata, viene presentata nella sede della fondazione Primio Napoli a Palazzo Reale a Napoli. La simbiosi non è casuale, no? In una delle capitali storiche della musica e della letteratura, c'è questo di dire che cosa la simbiosi tra musica e letteratura. Perché tra musica e letteratura, questa simbiosi, è dedicato a questo ultimo numero di Acaba, che è stata fondata nel 2013, appunto. E prima di diventare un abile narratore, infatti, Nando è stato anche un musicista e un compositore, come dicevo prima. La forma canzone, ecco, osserva nel suo editoriale di Acaba, Nando Vitali, accompagna la vita e fissa i ricordi di amori e sperare future. Ecco perché Shakespeare suggeriva di non fidarsi di chi non ama la musica. Così, e vi faccio poi un elenco degli autori di questa rivista, molto bella, molto interessante, e poi appunto una rivista che nasce, appunto, in una città come Napoli, capitale un po' della musica e della letteratura, è proprio un incontro felice. Così Filippo la porta, dialoga con Virginia Woolf, per la quale il ritmo è il più radicato e primitivo degli istinti. Da parte sua, Emilia Santoro cita un detto di Darwin, la musica è il risultato dei processi di seduzione fra i due sessi. Per Enzo Nimi, a causa del video oggi, la musica più che ascoltata viene guardata. Vero? Questa è intelligente questa osservazione. Vagando tra i vicoli e le memorie canore di Napoli, Alessandro Sabetti conclude, siamo tutti apolidi dal sangue meridionale. Ed ecco Pino Daniele, nel ricordo di Marco Zurgelo, come di uno che, pur parlando solo in napoletano, può anche vincere. Mario Schiavone, da parte sua, ascolta Franco del Prete, intento a fissare nel tempo momenti di scrittura pensata. Ad Atos Zontini, poi, va di dedicare parole dolenti in ricordo di un suo amico. Ed ecco poi i versi di Silvio Perrella, andavo veloce nel buio fino alla musica dell'incontro. Peppe Millanta, poi, si sofferma su una coincidenza unica nella letteratura, di Masters, autore di Spoon River, seppellito con i suoi personaggi, cioè autore e personaggi di Spoon River. L'incontro di San Giuliano è con la canzone romana. Poi sono di Ernesto Nobili le divagazioni fra Marc Ribaud e la nonna che girava tutti i tabacai. Da parte sua Simone Ghielli narra di una donna borderline fra chetamina e marioana. Daniela Matranola ascolta Pierluigi Germini spaziare nel mondo musicale. Vedete tutti questi incontri di capitolo in capitolo, di autore in autore, sono sempre legati appunto fra letteratura e musica. Da parte sua Valentina di Cesare incontra Marco Lodola, o Lodola, non lo so, sull'arte contemporanea. Ed ecco Giuliana Vitali, figlia di Nando e redattrice responsabile della rivista, alle prese con Gianni Maroccolo per un disco che duri per l'eternità. Diego Andese e Angelo Sciaudone ascoltano prima Enrico Rava su scrittori come Kerouac e su giacisti come Miles Davis. E poi Marco Cappelli che compone anche per Maurizio De Giovanni e infine Enza Alfano si intattiene con Daniele del Monaco e Antonio Grande anche sulle radici musicali napoletane. Ancora Vincenzo Signoretta esamina la musica nel mondo digitale. Infine il dialogo fra Maria Rosaria Vado, che vi acaba cura la direzione artistica, e Cristina Mestorini, autrice delle belle immagini di questo numero sulla cultura artistica e le nuove tecnologie. Bene, vi dico, vi ricordo ancora, che oggi verrà presentato, o viene già presentata, dalla Fondazione Premio Napoli questa rivista Akrava. È molto interessante e questa simbiosi tra musica e letteratura proprio a Napoli è molto felice. Grazie dell'ascolto, ci sentiremo di nuovo martedì prossimo. Arrivederci. Grazie a tutti.